Franz Gertz appartiene a un gruppo di artisti che, a metà degli anni settanta, sviluppa a Berne uno stile di pittura iperrealista. In quest'opera l'artista usa una tecnica antica, la xilografia, che consiste nell'incidere un blocco di legno da cui si ottengono delle stampe. Tuttavia queste stampe sono molto diverse da quelle tradizionali in bianco e nero, caratterizzate da contrasti molto ben definiti. Gertz ottiene stampe realistiche a colori, dal sapore di fotografie. Nella serie Bagatelle, incentrata sul bosco e la sua vita, usa diversi pigmenti colorati che rendono ogni stampa diversa dalle altre.